Ieri sera a stanza, presso l'Aula Consiliare del Comune, la prima assemblea della rinnovata consulta delle donne. Oltre 30 le iscritte che hanno riconfermato alla Presidenza l'imprenditrice Concetta Grimaldi al suo secondo mandato, ad affiancarla nel ruolo di Vicepresidente Lucia Donofrio, medico di professione. In seguito alla riapertura delle iscrizioni che ci sono state lo scorso settembre, come da regolamento del 21 aprile 2011, il Sindaco ha indetto l'Assemblea per la convalida e l'elezione delle cariche sociali. Potevano iscriversi tutte le donne maggiorenni residenti a stanza. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Vittorio Esposito per l'ampia partecipazione della componente femminile al momento assembleare che ha ridisegnato il corso della consulta, che è un organo consultivo e propositivo, opera nell'ambito delle pari opportunità e della non discriminazione, collaborando con l'amministrazione comunale, allo scopo di valorizzare la popolazione femminile e promuoverne la partecipazione alla vita politica e amministrativa del Comune. Auguri di buon lavoro alla consulta delle donne, ha affermato l'assessore alle politiche sociali Marianna Citera. Auguri al Presidente Concetta Grimaldi, al Comitato di coordinamento tutto, che sono certa saprà valorizzare la presenza attiva nella nostra comunità della visione femminile del mondo e l'attività delle donne nella società e nelle istituzioni. Una consulta impegnata nel sostenere le opportunità nel lavoro, nella politica e nella società. Questo ci aspettiamo, ha aggiunto l'assessore Citera. Ci aspettiamo un sodalizio capace di promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza, nonché azioni volte alla salvaguardia della salute delle donne. In piena continuità con quanto fatto fino ad oggi, ma con la necessaria spinta innovativa che caratterizza da sempre ogni consesso al suo rinnovo. Grazie. Grazie.